ciao 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 saluti da calda caldissima malta e mi dispiace se sentirete un sacco di rumori ma io qua non c'ho l'aria condizionata c'ho solo un ventilatore e è una finestra che deve essere aperta se non muoio strada facendo e c'è anche una gatta di cui sto facendo che sitting che può ogni tanto eccola qua comincia a dire le sue ecco ora vuole l'attenzione anche lei vedete anche la coda ecco qui bello della diretta ok c'è la si chiama pepe questa c'è sempre un gatto in questi video anche se il mio morto insomma allora eccoci qua qui è helery di acqua fortis astrology in questo video parleremo della luna crescente in bilancia dal punto di vista dell'astrologia sciamanica tradizionale allora io lo ripeto sempre così capite da dove sto partendo perché dico queste cose secondo l'antica cultura la luna nuova accadeva quando si intravedeva il primo spicchio di luna ad ovest nell'orizzonte al tramonto la moderna concezione della luna nuova per gli antichi era la luna nera non c'era luna nel cielo non è apparsa non è venuto non è presente ed era di conseguenza un fine di un ciclo e di aspettare l'inizio del nuovo ciclo lunare con l'apparire della luna crescente allora con questa spiegazione in mente andiamo a vedere cosa ci porta alla luna crescente di questo mese di settembre 2018 la luna crescente fa la sua comparsa l'11 settembre 2018 poco dopo che il sole tramonta ad ovest stiamo per cominciare il ciclo lunare che chiama l'energia della bilancia l'energia governata da venere nella sua espressione più logica ed estroversa nella casa della bilancia bellezza ed armonia sono apprezzati nella giustizia e l'uguarianza e di dare a tutti la possibilità di esprimere le loro opinioni la bilancia adora essere in compagnia creare degli incontri diplomatici dove il piacere viene tratto da essere garbati e cortesi e ad osservare il buon ton la signora di questa luna crescente e venere che da poco è entrata in scorpione la casa più introspettiva di marte venere è anche entrata nella sua fase ombra cioè quella parte che passerà tre volte perché sta rallentando il suo passo in preparazione per andare in moto retrogrado dal 6 di ottobre 2018 venere in scorpione non è molto felice dovendo sottostare alle regole di marte che la pensa in modo proprio opposto al suo venere in scorpione diventa più sfrontata di quello che normalmente a venere piace essere quello che lei desidera lo va a prendere non c'è a remore però in modo un po più tra tra versi e nascosti vero nel scorpione un segno d'acqua per cui ha una memoria lunga ma lunga di amori passati e spiacevoli incidenti che non sono mai dimenticati e ancor meno perdonati la gatta dietro di me ok salutatela perché ok dimenticatevi la cooperazione con gli altri in un modo raffinato e garbato dove tutti possono dire la loro senza temere ripercussioni cioè proprio dimenticatelo buttate fuori dalla finestra alla diplomazia qui stiamo parlando di un'attrazione quasi fatale che diventa più magnetica del buco nero che si trova al centro della nostra galassia amore odio fanno parte della stessa moneta e confini fra di loro non sempre sono chiari anzi non sono chiari per niente entrano uno dentro l'alto marte sta parlando direttamente con venere con una linea diretta di conflitto perché venere in scorpione fa un quadrato a marte in acquario quadrato e 90 gradi per ora lei venere vince ma la storia non è finita sia venere e marte si stanno muovendo con un passo molto lento paragonato al loro usuale passo per cui il cammino che tracciano è più calcato più sentito è interessante la dinamica che si sta creando fra venere e marte abbiamo avuto un'estate che ha messo marte nelle prime pagine stendiamo quello pietoso ora avremo venere che farà le prime pagine autunno ma sempre collegata a marte marte sta emergendo pian piano dalla sua fase ombra venere ci appena entrata la danza fra amore e odio il portare insieme e il dividere viene espressa in più modi venere scorpione è scossa da urano un toro che per parcondicio scuote anche marte chiamando entrambi ad essere veri alla loro natura dimostrare chi sono veramente senza timore di essere giudicati venere sta condividendo la casa dello scorpione con giove che sappiamo qual è il suo consueto dire più grande è meglio è per cui aspettatevi che qualsiasi incidente piccolo che sia che urta la nostra venere in scorpione diventa una questione di vita e di morte e ci rischia una terza guerra mondiale ma per l'amore del cielo non lo dite questo venere mi raccomando anche se abbiamo una luna crescente in bilancia che chiama al giocare secondo le regole e di dare uno chance a tutti questa lunazione non lascerà superstiti e come viene giudicato chi vive e chi muore per modo di dire viene da volori forgiati da torti subiti durante tanti lunghi anni questa luna crescente sta ricevendo un calcio freddo calcolato da marte in acquario e marte dal suo canto sta danzando di nuovo con i nodi lunari ed è buttato fuori dal ring da urano un toro in qualche modo siamo di nuovo a metà maggio del 2018 e alla settimana di ferracosto quando per coincidenza abbiamo avuto la scorsa luna crescente in vergine ma con una differenza la differenza ora che venere sta in scorpione non in bilancia e questa è una grandissima differenza e quello che sta succedendo ora è anche un preavviso di quello che vedremo in autunno attraverso gli occhi di venere almeno una grandissima differenza che abbiamo tanta energia di terra che ci aiuta a non buttare tutti fuori a calci nel sedere la dimora lunare che accoglie questa luna crescente in bilancia e la sedicesima chiamata al zuban gli artigli l'immagine è di un uomo seduto su un trono tenendo una bilancia nelle sue mani e le parole chiavi sono colui che conta sappiamo quando quanto venere in scorpione può contare il mercante transazioni successi bilancio e prosperità per cui dette in parole povere questo ciclo lunare è buono per fare transazioni con gli altri per il commercio e di avere il coraggio di prendere ciò che uno desidera ma non è un mese per l'amore se non siete disposti di giocare diversamente e di andare in profondità a temi molto scottanti e molto forti allora se avete bisogno di consiglio come navigare queste energie sono disponibile per delle consulenze private sto facendo a continuando l'offerta sulla mia consulenza di un'ora per ora e tutti i dettagli sono sottostante alla descrizione del video vi auguro un felice una felice una crescente bilancia che venere ci guidi delle intense acque dello scorpione e che ognuno di noi ha il coraggio di essere se stessi anche se il mondo non è d'accordo anche se il mondo ritiene che noi ci dobbiamo comportare diversamente ovviamente senza mai nuocere gli altri e prima che andate via ricordatevi di dimmi cosa ne pensate pollice in su condividete e sottoscrivete alla mia pagina e vi saluto da calda caldissima malta scusatemi sempre per il disgusto di sottofondo e ci vediamo alla prossima da roma credo ciao ciao